Ammonta a 47.444 euro la somma di cui si sarebbe appropriato indebitamente Claudio Delli Paoli, ex responsabile dell'ufficio tecnico del comune di Sessa Cilento. Lo stesso funzionario avrebbe anche procurato intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale ad alcune ditte attraverso affidamenti di lavori pubblici non regolari. Per questi motivi, nella seduta di mercoledì, il giudice per le udienze preliminari di Vallo della Lucania, Sergio Marotta, lo ha rinviato a giudizio per peculato e abuso d'ufficio, mentre per il responsabile dell'ufficio finanziario dello stesso comune, il ragioniere Romeo Marrone, è stato disposto in non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. I fatti si sarebbero consumati tra il 2011 e il 2012 in occasione dei vari finanziamenti ricevuti dal piccolo comune cilentano per la realizzazione di diverse opere. Sessa Cilento in quel periodo ricevette fondi per l'edilizia scolastica, per la ristrutturazione di un acquedotto rurale, per la sistemazione di una strada interpoderale e per il completamento della palestra nel capoluogo. Opere importanti che, secondo le indagini della Procura Vallese, l'allora responsabile dell'ufficio tecnico avrebbe affidato attraverso procedure fuori legge, favorendo in questo modo un ingiusto beneficio alle imprese a cui affidò i lavori. Mercoledì scorso Claudio degli Paoli è stato rinviato a giudizio e sarà processato per peculato e abuso d'ufficio. Il responsabile del servizio finanziario è stato assolto da ogni capo di imputazione. Lui fu tirato in ballo per aver autorizzato l'emissione dei mandati di pagamento relativi alle opere pubbliche affidate illegalmente e le parcelle gonfiate a degli Paoli. Marrone, attraverso il suo legale rappresentante, l'avvocato Franco Maldonato, ha dimostrato che il responsabile del servizio finanziario di un comune non è tenuto ad indagare sulla bontà dell'atto che lo richiama al pagamento. In questi casi, se in bilancio ci sono i fondi, deve limitarsi ad autorizzarlo. In seguito a questa vicenda giudiziaria, Dilli Paoli fu mandato via dal comune, dove invece continua a lavorare ricoprendo lo stesso incarico Romeo Marrone.